La Sicilia La Sicilia presenta tantissimi luoghi straordinari, oggi siamo qui nei pressi di Avola per andare a vedere il famoso dolmen di cui tanto naturalmente si è discusso e siamo qui con il dottor Pietro Piazza, archeologo, che ci racconterà un po' la storia di questo sito e di questo monumento, ovviamente con tutte le varianti sul tema che ci sono. È sicuramente però un luogo assolutamente suggestivo da vedere, anche se per così dire impervio in alcuni suoi passaggi, è anche uno spaccato della natura siciliana in una splendida mattina di novembre. Dottor Pietro Piazza, dove siamo qui e come viene definita questa zona, questo sito? Allora noi ci troviamo ad Avola, questo è il sito del dolmen Ciancio, in realtà la contrada si chiama Falaride, si chiama, una contrada che archeologicamente è molto importante nel contesto avolese, perché sono stati rinvenimenti di età soprattutto tardoromana che attestano la presenza già in età romana di un abitato che però, questo Falaride, che non è mai stato effettivamente scavato, rinvenuto integralmente. Una zona che si prestava per delle ottime condizioni di vita topograficamente, perché è una pianura costiera, una paralia per usare un termine greco, che è tagliata da piccoli corsi d'acqua come quello che abbiamo appena passato, che probabilmente in passato avevano anche un'ideografia più importante, e che poi con le piccole foci di questi corsi d'acqua formavano degli approdi, è il caso anche della villa romana della Borgellusa, che si trova poco distante da qui, che è quasi sicuramente questa villa risalente dal primo avanti e il quarto dopo, ha avuto un piccolo approdo e quindi era un luogo non solo di vita privata romana, ma era anche un'attività produttiva molto importante. E quindi, come si può immaginare, è un luogo che è sempre favorito l'insediamento umano fin dall'età remotissima, quindi dall'età preistorica, come potrebbe essere la prova della presenza del dolmen. Chi ritrovò e in che circostanze avvenne la scoperta e almeno la prima classificazione, anche se su questo poi Torri Piazza ci spiegherà che non tutti furono d'accordo sulla denominazione o sulla classificazione esatta. Quel dolmen Ciancio di Avola prende il nome da Salvatore Ciancio, illustre e studioso, di origini lentinesi, ma che vive da qui a Avola, che ha affiancato e ha pubblicato tantissimi siti risalenti all'età preistorica, anche da greca, nella provincia di Siracusa, collaborando proficuamente con il grande Luigi Bernabò Brea. Fu lui che lo scoprì nel 1961 e che subito lo identificò come un dolmen, quindi un edificio megalitico. La presenza del dolmen si caratterizza essenzialmente per le caratteristiche architettoniche del trilitismo, cioè due piedritti coperti da un architrave, sempre litico. Così per la maggior parte delle persone con cui vedrà il nostro documentario, subito alle persone viene in mente Stonehenge, insomma tutto il nord Europa, c'è qualcosa in comune per così dire, oppure qua trattasi di fenomeni? No, è molto in comune con il fenomeno del megalitismo in generale in Europa. Il fenomeno del megalitismo è diffuso nell'età del bronzo, nel terzo-secondo millennio, parte dalle regioni dell'Europa, della Francia, della Germania, quindi Europa settentrionale, e poi durante il periodo dell'età del bronzo, con la cultura del bicchiere campaniforme, più o meno va, stiamo parlando del 2.900, del 1.600 a.C., va diffondendosi in tutta l'Europa. In Sicilia abbiamo le attestazioni importanti, perché poi il megalitismo non arriva solo in, passa praticamente dalla Francia alla Spagna, alla Sardegna, arriva in Sicilia e anche a Malta, dove a Malta abbiamo dei grandi complessi megalitici, tra cui il famoso Tarxien, che dà il nome anche a una cultura ceramica, la cultura di Tarxien Sematary, e arriva anche in Sicilia, dove abbiamo molti esempi di megalitismo, tra cui appunto il dolmen Ciancio, per cui, ripeto, c'è da discutere su se si era un dolmen o no. Abbiamo il dolmen di Cava dei Servi, in provincia di Ragusa, nel territorio di Modica. Abbiamo il dolmen di Cavalazzaro, che è meno conosciuto, perché a Cavalazzaro chiaramente la massima visibilità, hanno le famose tombe a grotticella artificiale, con prospetto monumentale, scavate da Paolo Orsi, dell'età della cultura di Castelluccio, che è coeva della cultura del bicchiere campaniforme. Infatti, il bicchiere campaniforme, con conseguenza del megalitismo, si diffondono più nella Sicilia occidentale e sud-centrale. Abbiamo altri esempi anche nel territorio di Termini Merese, nel territorio di Cefalù, abbiamo Murapregne, però anche là, sempre presi col beneficio del dubbio, anche perché il dolmen, come impostato, deve essere un monumento funerario, entra nella caratteristica dei monumenti funerari. Per esempio, in Sicilia orientale, come monumenti funerari, noi abbiamo le grandi necropoli con le tombe a forno, le tombe a grotticella artificiale, quindi abbiamo una differenziazione, una forma funeraria ipogeica, più che epigeica, perché, per esempio, se noi pensiamo a Stonehenge, se pensiamo ai Cromlec della Bretagna, abbiamo edifici funerari che invece sono collocati su territori, su terreni più o meno pianeggianti, mentre invece la conformazione geologica degli Iblei non permetteva l'erezione di questi grandi monumenti, anche perché si potevano sfruttare agevolmente le pareti rocciose delle cave di cui rischissi il nostro territorio. E questo è, il dolmen ciancio è uno di questi esempi che può rientrare nella tipologia del dolmen, ma con i propri dubbi, perché noi abbiamo qui effettivamente due piedritti e poi abbiamo il monolite dell'architrave. Il dubbio sul fatto che comunque l'architrave è gigantesca. Grandissime dimensioni. Grandissime dimensioni. Poi abbiamo questi segni, come ha anche notato il geologo, il dottor Ansaldi, in uno studio recente condotto su questo monumento, abbiamo dei segni di attività antropica successiva su questo dolmen, in particolare anche nella parte superiore del dolmen, dove si trovano le dieci fosse di forma rettangolare, che sono probabilmente delle sepolture. All'epoca ciancio parlò di sepolture infantili, che poi bisogna anche vedere pure quello, perché le sepolture, diciamo che in età, i siciliani di oggi non sono uguali ai siciliani di una volta, quindi può darsi anche che le dimensioni... Questa è una cosa sulla quale, insomma, credo sia anche interessante parlare. Chi sono questi abitanti di allora? Chi appartengono? A quale gruppo? Se, naturalmente, questa è una domanda a cui possiamo rispondere. Sono indoeuropei, per esempio? Il popolo dei megaliti europei, della cultura del bicchiere campaniforme, si è molto discusso se sia una popolazione autoctona della Francia, della Germania, della Spagna, oppure se siano immigrati. Ci sono due tesi, c'è la tesi autoctona e la tesi migrazionista. Alcuni pensano che il popolo del bicchiere campaniforme appartenesse al cosiddetto popolo Kurgan, che quindi provenivano dalle steppe dell'Eurasia e poi si abbiano invaso l'Europa e si siano fuse con le popolazioni autoctone. Altri invece pensano che sia un'evoluzione delle popolazioni autoctone che si trovano già in Francia, in Spagna e in Germania. Noi sicuramente non abbiamo attestazioni del campaniforme, ma non possiamo parlare di un'invasione di un popolo che proveniva dall'Europa, quindi anche troppo lontano per la Sicilia. Possiamo parlare di contatti commerciali, quello sì, è probabile che i campaniformi trovati in Sicilia siano il frutto di scambi commerciali e magari anche di scambi di idee, da cui poi il modello del Trilite, del Dolmen, sia stato portato, sia stato copiato più che portato da una nuova cultura che ha invaso la Sicilia. Credo che chi ha fatto i Dolmen, i megaliti della Sicilia, siano gente autoctone, quindi sicuramente quelli che poi la storiografia greca chiama Siculi, Sicani e Elimi, quindi possiamo parlare al netto dell'origine mitologica degli Elimi, perché sappiamo che Erodoto Tucidi degli Elimi li faceva risalire a dei troiani, scampati alla guerra di Troia, invece Siculi e Sicani, almeno per i Sicani abbiamo la certezza che una popolazione autoctone. Anche sui Siculi la storiografia greca parla di questo popolo che insieme ai Morgeti e gli Ausoni dalla Calabria invade. Quindi un popolo sostanzialmente italico, che parlava magari una lingua simile al latino, insomma, questo non lo, come dire, non possiamo solo... Poi queste sono sempre le congetture, possiamo parlare, come hanno fatto studiosi recenti, che addirittura hanno l'origine dei Siculi, la fanno risalire addirittura agli Shekelech, nominati nella guerra contro il faraone Ramses III, di questi popoli del mare, tra cui la ricerca... Nel basso, nelle varie sponde del Mediterraneo, in epoche diverse... Certo, quante riflessioni vengono dal fatto che la Sicilia presenti una ricchezza straordinaria di civiltà, di insediamenti, di stratificazioni, di luoghi, di siti assolutamente particolari, come dire, e anche poco, per così dire, conosciuti. Potrebbe essere questa la frontiera di un nuovo studio, per esempio, di un nuovo approccio che noi abbiamo alla storia locale, cioè quello di legarla alla tutela, alla difesa dei beni culturali, alla conoscenza anche dei siti. Perché credo che, per esempio, in questo caso, qui ci troviamo in presenza di qualcosa di estremamente suggestivo, a parte tutto, a parte al netto, come dire, delle speculazioni storiche, delle teorie, che ovviamente lasciamo agli addetti ai lavori che hanno, come dire, competenze tecniche per ragionare su questi argomenti. Però credo che ci sia un elevato grado di suggestione, insomma, per le persone che amano la cultura e che amano poi in generale la propria terra per quanto riguarda i siciliani, ma anche, insomma, i nostri innumerevoli visitatori che vengono e che qui possono trovare, come dire, un filo rosso che lega le varie culture europee e mediterranee. Credo che questo sia, diciamo, un piccolo, ma sostanziale ed esemplificativo sito che ci fa vedere come la nostra storia, come dire, sia abbia diversi millenni, insomma, in continuità di civiltà e anche, per così dire, di modi di pensare. L'eccezionalità di questo sito del dolmen ciancio è che, sì, sempre al netto delle speculazioni, come giustamente diceva il professor Amato, delle speculazioni storico-archeologiche è l'inserimento in una cornice naturale quale è questo torrente, questa piccola cava, anche se non è una cava vera e propria, con pareti alte, però è sempre comunque una parte di banco roccioso scavata da un corso d'acqua. E quello che sarebbe importante sottolineare è che questi monumenti, i dolmen, come il dolmen ciancio, come il dolmen di Cava dei Servi, come altri, sono monumenti che vanno protetti, soprattutto perché inseriti in un contesto naturale, da cui sono inscindibilmente legati, nel senso che nel momento in cui si distrugge un contesto naturale, come una cava, edificandoci dentro, facendoci attività antropiche molto invasive, e isolando il monumento, il monumento così lo si decontestualizza, quindi diventa così come una sorta di aiuola, dove mettere il fiorellino carino, invece questi monumenti vanno preservati insieme al contesto in cui sono stati trovati. Anche perché, a differenza delle brughiere, delle grandi pianure dell'Europa, da cui poi abbiamo il megalitismo come Stonehenge, come i Cromlec, come Carnac e molti altri, la Sicilia invece ha una conformazione geologica, dovuta, soprattutto alla Sicilia sud-orientale, dovuta alla presenza delle cave di questi grandi compressi ipogeici, che è unica nel suo genere, che costituisce, come ha anche sottolineato più volte l'UNESCO e anche alcuni eminenti studiosi e colleghi, un caso unico di iterazione continua attraverso i secoli tra uomo e natura, dove le due entità, uomo e natura, si sono sempre compenetrate senza sopraffarsi l'uno con l'altro. Quindi l'uomo ha preso le risorse, come anche la natura, e poi ha approfittato dell'azione che ha fatto anche l'uomo. Quindi è questo il motivo per cui questi monumenti andrebbero preservati e andrebbero divulgati, perché chiaramente è inutile lasciarli in uno stato così di sonnamulismo statico senza che nessuno li conosca. Andrebbero divulgati molto di più e fatti conoscere. Anche la diatriba stessa, perché ripeto, il dolmen quando venne trovato, incontrò, pur essendo un grande amico collaboratore, incontrò il parere contrario di Bernabobrea, che non lo ritenne un dolmen vero e proprio e di altri, anche altri eminenti studiosi, però va fatto conoscere anche un po' la storia degli studi. Cosa riteneva fosse Bernabobrea? Disse qualcosa, oltre a negare il fatto che fosse un dolmen, cioè lo considera un aspetto naturale, un riparo? Lo considera un aspetto naturale, poi soprattutto le tombe che si trovano sopra, queste fosse quadrangolari, per secondo lui la frequentazione del sito invece andava a scritta ad un'altra fase, quindi molto più tarda, se non classica addirittura, perché la tomba a fossa quadrangolare scada nella roccia, è una tipologia molto comune, molto diffusa tra l'età greca e quindi fino all'età paleocristiana, perché scordiamoci che all'interno sono anche dei grandi complessi catacombali, troviamo le fosse rettangolari, le forme che attestano l'ultima fase di utilizzo delle catacombe, quindi lui sostanzialmente lo datava molto più tardi questo monumento e pensava che fosse un'attività che venne stata utilizzata, venne fatta successivamente, come anche la stessa presenza di scarso interro di sotto, probabilmente nel corso dei secoli è stata utilizzata anche dai contadini locali o anche dai pastori come una piccola stalla con un piccolo riparo, andrebbero fatti effettivamente quello che manca, uno scavo statigrafico ben condotto all'interno, tutto attorno. Per cercare di capire effettivamente se possiamo aggiungere alle conoscenze che abbiamo qualche altra, per così dire, analisi, insomma, che ci, da un punto di vista dell'età o anche dell'uso, del tutto quanto, insomma, concerne la storia di questo sito, insomma. Va bene, io credo che adesso ci accingiamo a uscire, insomma, da quest'area. Io ringrazio Pietro Piazza per averci, come dire, dato, fatto conoscere, no? Dal nostro punto di vista anche didattico, e mi rivolgo ovviamente ai miei studenti che poi ci seguiranno anche. Questo è, per esempio, un tipico esempio dal nostro punto di vista di estetica ambientale. Cioè, qui noi troviamo un ambiente naturale, degli interventi umani, la nostra storia, i nostri siti, la nostra geografia che sta poi al centro degli spostamenti dei popoli e troviamo anche delle forme specifiche a cui corrispondono, per così dire, una parte importante, come abbiamo visto, dell'estetica del Novecento è l'estetica della forma, come gli uomini hanno dato poi realizzazione anche alle loro idee sin dal mondo, come dire, dai primordi della stella a cui parliamo appunto di preistoria, di storia molto antica, qualunque sia, davano delle loro idee anche teologiche, se volete, religiose, poi delle forme plastiche, se fosse un dolben in questo senso o anche qualcos'altro, chiaramente era anche la realizzazione di un'idea e di un legame tra l'uomo, la natura e il territorio e anche da quello ci serve per ragionare sul fatto che determinate antropologie si cominciano a formare quando l'uomo comincia a capire di avere anche una dimensione per così dire spirituale oltre a una materiale che evidentemente vi è essendo un monumento funerario poi possiamo dire se sia della preistoria siano insediamenti classici no ma c'è questo legame per così dire un po' con il soprannaturale con quello che è il legame tra la vita e la morte e il senso dell'inserimento di tutto questo in un per così dire territorio ben definito dove c'è l'acqua che come sappiamo è un elemento estremamente simbolico anche e probabilmente tutto questo è legato anche a degli aspetti probabilmente di così poipotizzare di carattere religioso bene un saluto a tutti e ci vediamo al nostro prossimo incontro la nostra prossima lezione dove affronteremo altri siti altri posti per così dire poco conosciuti ma che ci permettono per così dire qualche riflessione non so che può interessare addetti ai lavori e non un saluto a tutti Grazie per la visione!